Genitori Arcobaleno Onlus, questa mattina a Venafro lo stand organizzato dall'Associazione per la raccolta di fondi che serviranno a finanziare progetti ed attività per i bambini affetti da disabilità quali autismo, disturbo da deficit di attenzione e dislessia. Nel periodo natalizio dunque una proposta che ha dato modo a quanti hanno aderito di fare un bel regalo con prodotti di fattura artigianale, alcuni realizzati dagli stessi componenti dell'Associazione e soprattutto che ha consentito un aiuto concreto per quei bambini e le loro famiglie. Costituitasi da un anno e mezzo oltre a consentire momenti ludici ed attività fisiche per i bambini, l'Associazione svolge un altro fondamentale ruolo, rappresenta cioè un punto di incontro, confronto e sostegno per i genitori spesso lasciati soli a fronteggiare e a farsi carico della grave patologia di un figlio. Quasi un anno e mezzo che siamo sul territorio e diciamo che piano piano stiamo raggiungendo degli obiettivi sempre più maggiori e comunque ci stiamo facendo sentire. Certamente l'aiuto di tutti, non solo delle istituzioni, di tutta la società civile per rendere migliore la vita dei nostri figli. Avete già messo in campo delle interessanti iniziative concrete, i bimbi in piscina, è stata un'iniziativa di cui ci hanno parlato davvero molto bene, immagino la vostra soddisfazione per il risultato. Abbiamo fatto anche il piccolo bosco, una fattoria sociale, sono stati impegnati nel verde, in attività diciamo all'aria aperta ed è stato bellissimo anche per noi famiglie perché sentiamo insomma una grande famiglia adesso e nessuno rimane solo, riusciamo ad aiutarci a sostenerci perché è difficile avere un bambino disabile. Per loro comunque è una gioia, è un'opportunità, è un modo di crescere, di sviluppare a livello sia affettivo che sia intellettivo. Dunque bene l'iniziativa odierna, ma è necessario fare di più. Quei bambini hanno bisogno di una sede dove praticare quelle attività che contribuiscono a farli stare meglio, donando per questo un pizzico di serenità in più ai genitori. La necessità più grande che abbiamo adesso è di trovare dei locali dove fare delle collettività con i bambini, musicoderapia, arteterapia, uno spazio adeguato per bambini disabili, quindi con disabilità e varie motorie, quindi è molto difficile, non riusciamo, al momento abbiamo fatto tanti appelli ma neanche il comune ci ha risposto, quindi né gli enti né i privati. L'idea ultima dell'associazione è quella di creare proprio un centro per il recupero dei bambini disabili dove possano fare terapie in modo da sviluppare le loro loro potenzialità al massimo. Purtroppo questo non c'è, ma non c'è non solo a Venafro, non c'è proprio in Italia, sono pochi centri, sono privati, quindi ci vogliono un tacco di risorse economiche che noi non abbiamo come genitori, non possiamo, quindi speriamo che prima o poi si avveri questo sogno. Grazie.